Metti vita in ogni azione Puoi ottenere quello che vuoi solo se applichi le tue capacità al tuo lavoro e al tuo ambiente. Diventi abile ad applicare le tue capacità con successo acquisendo la coscienza del potere. Avanzerai grazie alla concentrazione sul tuo lavoro di oggi e compiendo in modo perfetto tutto quello che puoi fare adesso. Puoi ottenere quello che vuoi nel futuro solo concentrando ogni tua energia nell'uso costruttivo di tutto quello con cui sei in relazione oggi. Un uso indifferente o apatico degli elementi del tuo ambiente di oggi sarà fatale per la realizzazione di domani. Non desiderare per oggi ciò che è oltre la tua capacità di ottenere oggi, ma sii certo di ottenere oggi il meglio che puoi avere. Mai prendere meno del meglio che puoi avere in questo momento, ma non sprecare energia nel desiderare ciò che non puoi avere in questo momento. Se hai sempre il meglio che puoi avere in un dato momento, continuerai ad avere sempre cose migliori perché è un principio fondamentale dell'universo che la vita debba continuamente avanzare verso più vita e verso l'uso di cose grandi e migliori. Questo è il principio che attiva l'evoluzione. Ma se sei soddisfatto con meno del meglio che puoi ottenere, cesserai di avanzare. Ogni relazione di oggi, che si tratti di business o delle relazioni familiari o sociali, deve essere da te considerata come un trampolino di lancio per ciò che desideri in futuro. E per ottenere questo è necessario che tu metta in ogni cosa più vita di quanta sia sufficiente per riempirla. Ci deve essere energia in eccesso in tutto quello che fai. È quel surplus di energia che causa l'avanzamento e ti fa ottenere quello che vuoi. Dove non c'è surplus di energia, non c'è avanzamento né realizzazione. È il surplus di vita al di sopra e al di là delle funzioni dell'ambiente attuale che causa l'evoluzione. E l'evoluzione è avanzamento verso maggiore vita, ovvero ciò che ti fa ottenere quello che vuoi. Supponiamo che tu lavori nel commercio o svolga un altro tipo di professione e che tu voglia incrementare il tuo business. Non accadrà se ti limiti a vendere i tuoi beni o servizi in modo meramente meccanico, prendendo i soldi del cliente, offrendogli un buon prezzo e lasciandolo andare via con la sensazione che non avevi alcun interesse nei suoi confronti, oltre a fornirgli un trattamento equo e profittevole. Se il tuo cliente non sente che tu hai un interesse personale per lui e per le sue esigenze, e che sei sinceramente desideroso di aumentare il suo benessere, hai fatto un errore e stai perdendo terreno. Quando riesci a trasmettere in ogni cliente la sensazione che stai veramente cercando di favorire i suoi interessi come fossero i tuoi, la tua azienda crescerà. Non è necessario dare premi o fare migliori offerte di altri per raggiungere questo obiettivo. Esso si raggiunge mettendo vita e reale interesse in ogni transazione, per quanto piccola. Se desideri cambiare il tuo lavoro, rendi il tuo business attuale un trampolino di lancio per quello che desideri, e finché operi nel business attuale, riempilo di vita. L'eccedenza di energia ti porterà verso quello che desideri. Metti un vivo interesse in ogni uomo, donna e bambino che incontri sia nel mondo del lavoro che in quello sociale, e desidera sinceramente il meglio per ognuno di loro. Presto inizieranno a percepire che il tuo avanzamento è per loro una questione di interesse, e uniranno i loro pensieri per il tuo bene. Questo addenserà un campo di potere in tuo favore e aprirà strade al tuo avanzamento. Se sei un impiegato e desideri una promozione, metti la vita in ogni cosa che fai. Metti più vita in quello che fai di quello che serve per riempire ogni parte del tuo lavoro. Per prostituzione intellettuale intendo l'essere assunto meramente per difendere e sostenere l'immoralità, la corruzione, la disonestà o il vizio in qualsiasi forma. La prostituta intellettuale può salire di grado, ma è un'anima perduta. Rispetta te stesso. Sii irreprensibilmente onesto in tutto. Metti vita in ogni azione e pensiero, e concentra il pensiero della coscienza del potere sul fatto che tu possiedi il diritto alla promozione. Giungerà quando riempirai di vita in eccesso la tua posizione attuale. E se non giungerà dal tuo attuale datore di lavoro, giungerà da un altro. È la legge che dice che chiunque riempie il posto attuale oltre le sue capacità di contenimento, deve avanzare. Ma non puoi ottenere evoluzione né progresso se non ti imprimi bene in mente ciò che segue. Non è sufficiente che tu, semplicemente, metta più vita nel tuo lavoro. Non andrai lontano se sei un buon uomo d'affari o un buon dipendente, ma un cattivo marito, un padre ingiusto o un amico inaffidabile. Il tuo fallimento in questi ambiti ti renderà incapace di utilizzare il tuo successo per l'avanzamento della vita. E non agirai secondo le modalità della legge costruttiva. Più di un uomo che osserva la legge negli affari è impedito nell'avanzamento perché è cattivo con la moglie o carente di qualche altra relazione della vita. Per agire secondo le modalità della legge evolutiva, è necessario che tu riempia in eccesso ogni tua relazione attuale. Un operatore telefonico desiderava cambiare lavoro e mettere in piedi una piccola azienda agricola. Iniziò a muoversi in quella direzione con l'essere buono con la moglie. La corteggiò senza fare alcun riferimento al suo desiderio e, dall'essere indifferente ai suoi sogni, lei divenne interessata e disposta ad aiutarlo. Presto presero un piccolo appezzamento di terreno nella periferia della città e lei iniziò ad allevare pollame e a coltivare un orto mentre lui continuava a lavorare come operatore telefonico. Ora hanno una fattoria e lui, insieme a lei, ha ottenuto quello che voleva. Ti puoi assicurare la cooperazione non solo di tua moglie ma di tutte le persone che sono intorno a te mettendo vita e interesse in tutti i tuoi rapporti con loro. Metti in ogni relazione, di affari, familiare o sociale, più vita di quanta sia sufficiente per riempire quella relazione. Abbi fede e fiducia nella coscienza del potere. Formati una chiara immagine di quello che vuoi in futuro ma ottieni oggi il meglio del meglio che può essere ottenuto oggi. Non essere mai soddisfatto in nessun momento se non ottieni esattamente il meglio che puoi avere in quel momento ma non sprecare energie nel desiderare ciò che non puoi avere in quel momento. Utilizza tutte le cose per l'avanzamento della vita per te stesso e per tutte le persone con cui, in qualunque modo, sei in relazione. Segui questi principi di azione e non potrai fallire nell'ottenere quello che vuoi perché l'universo è strutturato in modo tale che tutte le cose devono cooperare insieme per il tuo bene.